Salvi i fondi destinati ai bandi per le periferie a darne notizia e lanci. Il governo rimette a disposizione in due anni le somme di un miliardo e sei saltate dal mille proroghe che avevano provocato una rottura istituzionale con i comuni. Si tratta di un'importante vittoria per cui esprimiamo grande soddisfazione e per cui ringraziamo i tanti sindaci che a Palermo durante la manifestazione mille periferie in rappresentanza dei propri cittadini e dei loro interessi hanno sottoscritto un documento condiviso contro il blocco dei fondi per le periferie. Lo ha detto Leo Luca Orlando, presidente di Anci Sicilia, dopo aver appreso la notizia che le risorse per il bando periferie sono state rimesse a disposizione e che un miliardo e sei di euro saranno distribuiti nei prossimi due anni. Proprio l'altro giorno, come ricordato d'Orlando, i sindaci avevano protestato ancora una volta a Palermo contro il congelamento di queste somme che servono alla rilancia e alla riqualificazione delle periferie urbane. Un traguardo rilevante per tutte le amministrazioni comunali che potranno continuare a pianificare investimenti con effetti a lungo termine e con un occhio attento allo sviluppo sostenibile, migliorando la qualità di vita dei cittadini e creando opportunità di imprese e occupazione, coprendo anche le spese che hanno già sostenuto o si sono impegnati a sostenere nel 2018. Sulla vicenda era maturata anche una durissima contrapposizione che aveva portato il sindaco di Palermo a disertare a settembre la visita in città del premier Conte per protesta. Sulla vicenda